Gli studi professionali ricevono quantità di e-mail sempre più crescenti e le e-mail stanno diventando veramente un incubo per tanti. Il client di posta normale non aiuta più perché anche in una gestione del singolo professionista con le etichette, anche seppur colorate, con i to-do's e quant'altro, alla fine non riescono, non si riesce a ottenere il risultato sperato, ossia quello di concentrarsi sul lavoro da fare e accantonare le cose che possono distrarre. Io sono sempre stato un grande appassionato di tutti i software gestionali e ho cercato da anni in realtà di adattare dei CRM o altri strumenti alla nostra attività lavorativa, l'attività lavorativa di un piccolo studio di dottori commercialisti. Ho perso veramente tante ore nello sviluppo e nell'adeguamento di software anche molto blasonati e senza poi però riuscire ad ottenere ciò che mi serviva, ossia non vedere la casella di posta continuamente piena di e-mail e con il risultato che poi mi dimenticavo pure un'e-mail e più che altro ciò che discende dall'e-mail, quindi un incarico. Mi sono imbattuto in terpi. Dopo i primi dieci minuti ho capito che era veramente lo strumento che poteva fare al caso mio e al caso del mio studio. Dopo la demo, in tutte le demo, qualsiasi software sembra bellissimo, ma in realtà dopo già la prima ora ho capito che il 90% delle funzioni di 2MP erano facilmente comprensibili. Posso assicurare che già dopo una settimana utilizziamo il 95% delle funzionalità o meglio avevamo il 95% dei benefici, ossia quello di non avere l'incubo continuo delle e-mail, poter gestire le pratiche per poi arrivare ai progetti attraverso gli incarichi e soprattutto tracciare anche le attività con i propri clienti, sapendo quanto tempo ti viene rubato, tra virgolette, passate in termini, dai clienti o da altre attività lavorative che discendono dalle e-mail, ma non solo, da tutte quelle attività come eventi, appuntamenti con i clienti, telefonate e quant'altro che possono essere tracciate. Quindi io lo consiglio vivamente a tutti, dal singolo professionista allo studio più grande, garantendo che la facilità di utilizzo riuscirà finalmente a togliervi dall'incubo di rispondere a quella determinata e-mail.